Laura Giausa per MSC TV. Signora Tarantola, come può la TV creare una cultura della legalità? Ha molti strumenti che sono proprio le attività che lei svolge, l'attività di informazione, l'attività di educazione, l'attività di intrattenimento anche. Ognuno di questi strumenti può essere usato per trasmettere, soprattutto l'informazione, ma come dicevo anche agli altri due strumenti, il senso importante di essere tutti consapevoli di quanti danni fa la criminalità organizzata, ma anche tutte le altre attività che ne sono alimentate e che la alimentano, come la corruzione, come per esempio l'evasione fiscale, il traffico di droga, il lavoro nero. Dare questa informazione e darle in modo corretto ed approfondito è un modo per sensibilizzare tutti i cittadini e i giovani, è un modo anche per trasmettere l'importanza del valore della legalità. Dare questa новa. Dare questa informazione e pauvre. Grazie a tutti.